Presidente Revincenti, oggi una grande vittoria nonostante una prestazione sicuramente non tra le più convincenti del Lanciano. Ciò che contava erano i tre punti, i tre punti sono arrivati. Sì, già era chiusa la risposta, oggi salviamo solo il risultato. Assolutamente mi è piaciuta la partita, non mi è piaciuta l'approccio, quindi portiamo a casa i tre punti. Però si può e si deve fare molto di più sotto tutti gli aspetti, innanzitutto quello mentale. Il secondo gol è stata forse l'unica azione bellissima del Lanciano, hanno toccato la palla forse sei o sette giocatori sugli undici presenti in campo e si è stata conclusa in maniera meravigliosa da Gragnoli. Se andiamo a vedere, quella è stata un'azione da Lanciano, un'azione che comunque si prova in settimana. Quello che dispiace, ritorno a quello che stavo dicendo Pocanzi, che se ci si allena una settimana intera e ci si allena da mesi, ma io dico anche da anni, per poter fare un calcio un po' positivo lo si deve fare dal primo al novantesimo minuto e non un'azione giusto per, quindi giocare a spazio assolutamente non è da Lanciano. Però diciamo ci sta tanto ancora tempo per potersi migliorare e guardare le prossime partite con la giusta fiducia mentale e la giusta cattiveria, quella che è totalmente mancata oggi. Va sottolineato forse anche qualche merito da parte degli ospiti. Ma se agli ospiti gli diamo campo è logico che gli ospiti avanzano e creano quei giusti grattacapi. Abbiamo avuto un Forti che anche oggi ha messo le mani, ha messo anzi i guantoni dove forse altri portieri non arrivavano. Quindi faccio i complimenti al portiere, però noi ci dobbiamo svegliare. Sembra che la squadra stia lì, giochicchia, pensando, avendo dentro di sé la consapevolezza, che prima o dopo la giocata capiti e che si riesce a fare gol. Però questo non sembra riesce e infatti in alcune partite il Lanciano ci ha rimesso. Ma la giocata capiti se ci si prova, ma se non ci si prova è difficile che si possa fare la giocata vincente. Noi oggi, secondo tempo, ci siamo dati un po' una svegliata e abbiamo provato a fare qualcosina. E in quel qualcosina è uscita l'azione che ci ha fatto fare il gol, un bellissimo gol. E quindi dove la squadra ha partecipato per i 5-6 elementi, ha partecipato all'azione del gol. Ma se questo lo si fa durante la settimana e non lo si fa sistematicamente la domenica, purtroppo se dopo i risultati non arrivano, significa che effettivamente ci dobbiamo svegliare mentalmente. Perché facciamo il compitino durante la settimana, ma non facciamo il compito importante la domenica pomeriggio, mi fa pensare. A proposito di portieri, il portiere dell'Angiano mi sembra in crescita, un ragazzo che veramente sta acquisendo una buona capacità di interpretare il ruolo. O mi sbaglio? Ricordiamoci che questo portiere ha un futuro sicuramente rosio, stiamo parlando di un 2001, 18 anni e tanti campionati da fare. Io spero per lui anche a categorie nettamente superiori a quelle che possa essere il campionato d'eccellenza regionale. Oggi ha fatto quello che doveva, ma anche domenica scorsa ha salvato il Lanciano in più di un'occasione. Quindi faccio i complimenti a lui, ma faccio i complimenti anche a chi l'allena perché sta crescendo a dismisura. Per chiudere, manca ancora parecchio al campionato, ma a questo punto qualche bilancio già si può fare. Qual è il suo rinviando principale di quello che poteva essere e che non è stato? Ma non c'ho assolutamente rinviando perché tutto quello che faccio lo faccio al massimo di quelle che possono essere le mie aspettative. È logico che qualcosa non riesce, ma è la vita, quella che possa essere la vita di una società di calcio, la vita imprenditoriale, ma anche la vita privata. Quindi faccio i complimenti a tutti quelli che si allenano e giocano la domenica, allo staff tecnico. So che lo staff tecnico deve fare tantissimo perché ci sono dei giocatori che comunque devono essere valorizzati per caratteristiche. Questo è quello che posso dire proprio per andare a trovare il pelo nell'uovo. Però sono felice e sono anche, diciamo, come posso dirlo in modo in sintesi. So che queste parole devono arrivare come messaggio forte a chi deve fare, diciamo, il salto di qualità e a chi lo deve far fare il salto di qualità a entrambi.